Ciao a tutti ragazzi, rieccoci a un nuovo video. Per chi non lo sa io mi chiamo Edward Simoni, vi chiedo di aiutarmi con qualche iscritto in più, quindi iscrivetevi, grazie. Oggi vi voglio far vedere come scaricare Zoom sul computer. Se non lo sapete, Zoom si può usare sul computer anche senza scaricarlo tramite il browser, andando nella pagina ufficiale. Su questo vi parlerò un'altra volta. Oggi vi mostro proprio come scaricarlo e installarlo sul PC. Andiamo su Google, scriviamo Zoom, andiamo nella pagina ufficiale, clicchiamo su Download, è la pagina ufficiale per scaricare Zoom, è questa qua, z-o-o-m.us. Slash Download, clicchiamo qua, quindi Download, scegliamo dove vogliamo il file per scaricarlo. Io scelgo Desktop, possiamo o cliccare qua, o se per caso lo chiudiamo, lo troviamo su Desktop. Clicchiamo due volte e parte l'installazione. Adesso ci chiede di entrare o di fare una conferenza già senza entrarci. Noi scegliamo di entrare, potremo scegliere di entrare tramite email, tramite Facebook o tramite Google. Io consiglio Google, mi trovo meglio, clicco due volte, poi entro tramite Google. Clicchiamo Launch Zoom. Come vediamo, il programma è già scaricato, quindi siamo pronti per utilizzarlo. Per questo video è tutto, io vi chiedo ancora di seguirmi su YouTube e vi ringrazio di aver visto il mio video. Un saluto.